L'artista esistenzialista paradosso a Chiesa. Perché dico paradosso a Chiesa? Ascolto tanti tifosi della Juve che chiaramente non hanno piacere che Chiesa vada via. Chiesa ricordiamo che ha un contratto 2025, scadenza giugno 2025, tra un anno neanche. Vuole 6 milioni di euro all'anno, la Juve fa un lavoro al ribasso, 5 e mezzo, giù di lì, e non ha voluto firmare quando di dovere. Il padre sta facendo questo lavoro di ricuscitura, non capisco a cosa porti, se poi comunque alla fine il giocatore non firma. Il procuratore Ramadani fa un altro tipo di discorso perché non ha portato un'offerta concreta fino adesso. Tutti addirizzano 6-7 squadre su Chiesa. Il Tottenham non ha venduto Kuluseschi, non vende Ricciarleson ancora, quindi tutti in alto mare. Tutte queste situazioni che riguardano Chiesa, anche il Milan, il discorso del Macher, a me tanti discorsi di questo tipo non risultano al momento. Se fai un discorso logico ci potrebbe anche stare, sui 18-20 milioni di euro alla FinFi non scambia alla pari. Il problema è sempre che Chiesa spara in gaggi alti, vuole più di 6 milioni di euro all'anno. Qualcuno ha addirittura sparato 7, se non sbagli addirittura il Besikt si avrebbe detto 9. Cose assurde, inconcepibili, però, quantomeno al momento. Considerate che offerte concrete per Chiesa non ce ne sono. L'intro l'aspetta a parametro zero all'anno prossimo, ma io ve lo farebbe stare in tribuna. Io mi chiedo, conviene a Chiesa, al padre, al procuratore di depauperare, anche mentalmente a Chiesa che dimmi da due anni, insomma, dico così e così contenendomi. Se è un altro anno fermo, penso che la distruzione è più totale. Questo è il discorso del bene che Ramadani vuole al suo assistito, però, e quindi l'intro a quel punto i soldi gli gli darebbe, credo, fondamentalmente all'anno prossimo. Anche se anche l'intro ha dei paletti, attenzione, quindi penso su quei sei, ma non più di quello, presumo, presumo, ho dubbi in merito comunque, ma fondamentalmente la Roma è l'unico che potrebbe dare attualmente, potrebbe andare alla Roma, 6 milioni di euro all'anno, diciamo, quello che la Juno gli dà, se Chiesa non esagera, se, come è probabile in questi frangenti, in queste ore, di bala potrebbe andare in Arabia, se alzano di poco lo stipendio, ma già l'hanno alzato di parecchio, a di bala, e quindi andando via di bala, la Roma potrebbe prendere Chiesa, in questo caso, insomma, la Juve si ritroverebbe, credo, con 20 milioni di euro, 18-20 milioni di euro, non più di quello sicuramente, sono addirittura a ribasso. Questa è un po' la situazione, o magari la Juve sceglie di essere andato a 15 più a Sharawi, e prendesse magari un esterno che gli può servire per la panchina, solo in questo caso, se vogliamo, fondamentalmente. Ripeto, col Milan è complicato un po' con tutte, perché l'ingaggio di Chiesa attualmente è soltanto la Roma che ha detto ok sei, però fondamentalmente, poi se va via di bala, forse la Roma potrebbe anche alzare un pochettino quei sei. Io rimango dell'idea che gli ho offerto sei, rimarrà su quei sei, non farà altro, perché chiaramente anche la Roma non può mettersi ad alzare questi ingaggi all'inverosimile. Quindi, ripeto, io penso che il futuro di Chiesa, io onestamente, oggi dove si fa una previsione, non riesco ad avere una visione chiara in nulla, ripeto, anche gli atteggiamenti del padre, poi si incontra in tendenza col procuratore, io penso che, non è un fatto di essere diffuso nella Juve, queste persone, soprattutto il procuratore, ma anche il padre non sta facendo meglio, stanno facendo il male di Chiesa, questa è la mia idea, perché molto può fare tutta l'evoluzione del caso, ma quando hanno chiesto a Chiesa di rinnovare il contratto a quelle condizioni, Chiesa ha detto di no, adesso Chiesa continua a dire che lo vuole a sé, continua a fare storia, quindi sai, io penso che è tutto un gran rompicapo, è veramente uscirne tremendamente complicato, ma io credo che la Juve, la Juve e la Minus Valenzio sono dell'idea che se Chiesa è così intestardito, lui, il padre, il procuratore, chi volete, da rimanere fermo ne uscirà con le ossa rotte, perché non tornerà minimamente il giocatore di prima, non è, ripeto, un fatto di essere diffuso o della Juve, di quello che volete, ma è una situazione talmente delicata, talmente complicata che voi non immaginate, quindi in pratica tutte quelle che sono le pressioni a livello mentale sul giocatore non hanno fermo e tutto, sarebbe devastante, questa è la mia modesta interpretazione di un caso che è talmente spinoso e complicato, che non ha un minimo di via d'uscita. Deve aspettare se si libera qualcosa dal Tottenham in Inghilterra, qualcosa dal Chelsea eventualmente, ma anche il Chelsea non si è fatto vivo, qualcosa forse dal Tottenham, oppure la Roma attualmente è la più papabile per prendere Chiesa, anche al Milan credo che sia abbastanza complicato, considerando che lui è sparato con questi ingaggi che sono faraonici, assurdi, inconcepibili. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.